I primi film della storia del cinema ungherese tornano a casa. Girati nel 1896 dalla produzione cinematografica allora all'avanguardia dei fratelli Lumière, partiti dalla Francia ora sono arrivati a Budapest per la digitalizzazione e per l'immortalità artistica. È incredibile pensare che i nastri originali esistano ancora, persino in buone condizioni. Secondo il direttore dell'Istituto Cinematografico Ungherese si tratta di un progetto storico. Dopo 125 anni dal 1896 questi negativi originali adesso sono qui in Ungheria per la prima volta. Queste pellicole erano usate nella macchina da presa dei cameraman dei fratelli Lumière, riprendevano scene di strada Budapest e anche le attrazioni turistiche. La digitalizzazione di questi film è realizzata con un'attrezzatura che costa quasi un milione di euro. Il risultato è incredibile. Il filmato originale è praticamente in qualità 4K. Queste scene erano visibili prima solo su una copia di qualità molto peggiore, quella del Master Cinematografico originale. Il responsabile della collezione fa un tuffo nel passato. Immaginate come potesse essere il cinema a quei tempi. La polizia dava i permessi di lavoro per gli attori. Si girava per strada, buona la prima. Durante le fiere c'erano dei tendoni dove venivano proiettati film e accanto al tendone c'era il tiro a segno. Erano veramente tempi fantastici. I nastri originali saranno restituiti all'Institut Lumière a Lione, ma il pubblico ungherese potrà sempre vedere i film in versione modernizzata. Gli spettatori potranno vedere i film digitalizzati per la prima volta al Ludwig Museum di Budapest. La mostra sulla storia del cinema ungherese inizia il 28 luglio. Magyar Ádám, Euronews, Budapest.